Niente Mediterranean Beach Games. Il sospetto, per non dire la convinzione, ce l'avevano da tempo i consiglieri comunali di centrodestra che avevano calendarizzato un'esplicita interrogazione alla quale ieri, in sede di consiglio, ha risposto personalmente il sindaco Matteo Ricci ammettendo la rinuncia alla rassegna internazionale. I giochi del Mediterraneo sulla spiaggia assegnati all'Italia e a Pesaro per il 2023 vengono revocati e assegnati alla Grecia e alla città cretese di Eraclion. Un'ufficialità di fatto presente da ottobre ma scoperchiata solo in queste ultime settimane con coming out nel corso del primo consiglio comunale del 2022. I consiglieri di centrodestra Giulia Marchionni, Giovanni Dall'Asta, Michele Redaelli, Daniele Malandrino, Dario Andreolli, Roberto Biagiotti, Emanuele Gambini, Francesco Totaro e Andrea Marchionni hanno incalzato il sindaco che ha risposto motivando la rinuncia a costi esorbitanti e a mancanza di garanzie sufficienti per un simile impegno di spesa per la città. Verificato il contratto, questo contratto cubava più o meno in 3 milioni e mezzo di spese, cioè il comune si sarebbe dovuto impegnare a coprire 3 milioni e mezzo di spese. Cosa mai è capitata prima in tutte le manifestazioni sportive che abbiamo ospitato, comprese le ultime che ospiteremo delle Final 8, dove in genere viene chiesto un contributo al comune spesso e volentieri in termini organizzativi, in termini logistici, a volte anche in termini di contributo, penso alle tappe, gli arrivi del Giro d'Italia piuttosto che altro, quindi mai c'era arrivato un contratto da firmare per 3 milioni e mezzo sostanzialmente. A quel punto ci siamo mossi innanzitutto con la Regione, la Regione non ha ritenuto di co-firmare il contratto come invece è stato fatto in Puglia per Taranto, ma si era impegnata a dare un contributo importante, mi pare intorno a 300 mila euro, quindi comunque la Regione la sua parte l'avrebbe fatta. A quel punto io sono andato al Ministero chiedendo una garanzia da parte dello Stato, perché l'impegno per una città come Pesero di 3 milioni e mezzo era eccessivo, anche perché sicuramente c'è un ritorno, come abbiamo enfatizzato anche in quel comunicato stampa, di immagine, di presenze eccetera, però non stiamo parlando di decine di migliaia di presenze e quindi il gioco non valeva la candela. Dunque Pesero rinuncia ad una manifestazione ufficializzata in Pompa Magna due anni fa che prevedeva l'arrivo di un migliaio di atleti a livello internazionale e sulla quale da ottobre 2020 era stato pure lanciato un bando del Comune per la scelta del logo di Pesero 2023.